Buongiorno a tutti, oggi è venerdì 2 ottobre e parliamo di analisi ciclica e voluta su Daxifuzimib. Venerdì è sempre un giorno importante, sappiamo perché nel pomeriggio. È stato importante anche ieri, che cosa? Quello che vi dicevo, ovvero abbiamo avuto che l'SMP500 ha fatto un massimo e da quel massimo è sceso. Questo, ovvero allargando il grafico tanto, perché se no non si vede, le cose più importanti a volte sono davvero molto molto piccole, abbiamo avuto un massimo di questa candela a 3393. Poi negazione della candela stessa, della shooting, 3397. Però altro shooting, quasi una gravestone d'oggi. E questo dovrebbe portare a ribasso. Ribasso perché? Perché se la centratura, come vi dicevo, è corretta, da qui parte un nuovo T più 1, ovvero un nuovo ciclo inverso, bisettimanale, che richiede perlomeno 3-4 giorni di discesa, minimo, minimo, minimo. Ok? Discesa, nel senso che devi iniziare a scendere profondamente. Se invece ritorniamo alla centratura alternativa, che fa partire da qua il nostro secondo T più 1, siamo arrivati comunque a 7 barre. In realtà 6 più 1. Quindi il dubbio rimarrà comunque. Ok? Noi però iniziamo a seguire quello che è il movimento di chiusura comunque del nostro T settimanale, soprattutto se ci sarà forte spinta. Su DAX, infatti, non è che abbiamo avuto una discesina piccola, piccola, piccola. Ora, è un qualche cosa che ho valutato perché abbiamo avuto come tempo la partenza di un T-3 data da un T-5 parzialmente ovviamente rialzista, ok? Che però manca della seconda condizione per avere la certezza che da qui sia partito qualcosa. Viceversa, questa semplicemente sarà la chiusura del quinto T-3 ribassista, ok? Da qui sta partendo veramente il sesto T-3. Per cui fate sempre attenzione quando manca una condizione a quelle che sono le regole base, ok? Dell'analisi ciclica voluta. Da qui che cosa possiamo anche dire? Possiamo dire che ieri abbiamo chiuso sotto il livello superiore della Kumo, non abbiamo superato i precedenti massimi, in questo caso da questo massimo a 12.873, non siamo mai andati a salire, mai. Essendo arrivati peraltro oggi a 5 candele, perché come sapete non viene segnata ancora l'ultima, ecco, o stiamo andando a chiudere serenamente il nostro T-1, oppure se continueremo ad avere tanta spinta, dopo aver chiuso il T-1 a 5 T-3, il ciclo di metà settimana, a un certo punto dovremo andare a ridiscendere per chiuderlo a questo benedetto T. bisognerà vedere che forza abbiamo, anche perché la media mobile a 50 periodi, con questa discesa pesante dei prezzi sotto anche quella a 200, uncinerà e cercherà di andare in Death Cross, e quindi porterà altra discesa, o volumi o prosecuzione della discesa. Il fatto è quello. E anche in questo caso, di nuovo, bisogna sempre ricordarsi che chi segue soltanto con modelli statistico-matematici i mercati, osserva i swing, osserva i volumi, osserva per ultimo i prezzi. I prezzi sono un target, è il tempo che conta tanto. I volumi contano ancora di più, perché ci permettono di seguire gli HFT. Per cui, per quanto riguarda la giornata di oggi, riassumendo, vediamo che spinta avrà da questo minimo e che volumi ci saranno, quindi, e vedremo se torneremo in quest'area qua, 12.707. Successivamente, avremo tutte le considerazioni del caso, anche perché se non avremo tutta questa grande spinta, e se andremo sotto questo minimo, e se il tempo ciclico sarà corretto, se avremo tutta questa congiunzione di elementi, lo short ci starà tranquillamente, ma proprio con una serenità fantastica. viceversa, dovesse partire appunto con varie candele verdi, con un ritorno non soltanto qui, ma anche sopra, un nuovo T-1, e la grandissima voglia di shortare non ce l'avrò, per il semplice fatto che, per far partire un secondo T-1, o un T-1 in genere, ci vuole perlomeno un giornaliero laterale alzista. Forse anche soltanto laterale, non voglio essere short per prendermi la salita. Per quanto riguarda l'inverso, peraltro, come detto, da qui non abbiamo avuto aggiornamento dei massimi, abbiamo avuto una discesa, e qui siamo andati in divergenza, ovviamente. Con questa discesa abbiamo fatto partire serenamente non soltanto un T-1, ma abbiamo 1, 2, 3, un T-1 inverso rialzista, che fa partire potenzialmente quello che vi dicevo, un T-1 inverso, di cui però abbiamo già la condizione minima per la partenza, per cui attenzione, siamo tanto in bilico, io forse sono troppo esigente su determinate cose, però siamo ancora tanto in bilico, e abbiamo visto che la tendenza, tranne che negli ultimi giorni, è stata pesantemente rialzo. Negli ultimi giorni toccavamo, facevamo un minimo, ripartivamo a scheggi in alto. Minimo, boom! Più candele verdi che candele rosse. Figuriamoci quando siamo arrivati qua, guardate che candele, questa, 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 il gap up di fuga. ecco, in questo caso invece, per ora, abbiamo un gap down di tentativo di fuga. Se non verrà ripreso come minimo, questo minimo, 12.671, non avremo come negli altri giorni un ups di Williams che cancella quello che viene fatto. Avremo forza a ribasso. Alta cosa, per quanto riguarda Fuzimib, anche in questo caso, qui, non abbiamo avuto alcuna violazione di swing, e siamo scesi, questa può serenamente essere la chiusura del sesto T-3 in questo caso, quindi un settimanale che chiude. Voi rischereste ad andare short su una potenziale ripartenza dopo 26 barre alla 27esima di un eventuale secondo T settimanale? Io non avrei tutte queste grandissime volte, sinceramente. Magari proverei appunto long dal minimo, ma prima vorrei vedere come chiude almeno la prima candela. Che forma ha? Perché anche le candele giapponesi sono ricomprese all'interno dello studio dell'analisi ciclica evoluta e permettono non quella 15, d'accordo, iniziamo a parlare di quelle a 1 ora, 2 ore, 4 ore, di capire che cosa ci si può aspettare. in questo caso dopo che abbiamo avuto una chiusura perlomeno di un T-1 qui siamo andati in potenziale chiusura già con tutti i crismi quindi condizione alto che sufficiente di settimanale. Quindi solo se andremo in violazione di questo minimo a 18.815 e nei tempi ciclici corretti valuterò uno short oppure se inizierò a vedere che non c'è affatto forza per risalire qui sopra e che le candele successive saranno magari inside. Anche perché se torno sul mio grafico qui ragazzi come vi dicevo l'ipotesi ormai di partenza a perlomeno di un secondo T-inverso non ha più bisogno di avere in questo momento un punto di domanda perché a quanto siamo arrivati di candele su inverso ribassisti? Qui siamo arrivati a 13 13 sono molto più di una condizione sufficiente che è un T-inverso rialzista per far partire un T più 3 persino. Però attenzione perché comunque essendo arrivate a 13 candele massimo fatto ieri quindi 6 più 6 potenzialmente 1 2 3 4 5 6 7 ecco questo è il dubbio ok bisogna anche comunque andare a vedere che cosa questo non ve lo dico lo lascio per il gruppo di persone che hanno deciso di investire il loro tempo nel trading e passare più tempo con me ragionando di analisi ciclica evoluta tutto il giorno anche perché si possono fare sempre tanti ragionamenti interessanti qui ci sono solo 5 candele come della partenza di un eventuale alto settimanale e non va bene qui siamo arrivati a 9 e quindi saremmo a chi vuole saperlo metta la sua domanda nel nei commenti sotto vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro una splendida giornata la mia sicuramente lo sarà ci sono ottime promesse buona giornata a tutti